Buonasera a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Siamo su Ethereum, partiamo dall'intraday, abbiamo visto anche Bitcoin, come si sta configurando il grafico. Ethereum è in trend ribassista da diverse giornate, questo sull'H4 dimostra come in questi ultimi giorni sia stata veramente forte la spinta ribasso. Spinta ribasso ancora non invertita, per vederla su base intraday una possibile inversione io attenderei quanto meno il superamento dei 1995, diciamo area 2000 dollari. Poi per quello che riguarda invece il grafico giornaliero, eccola qua, è un'analisi proprio specifica, supporto toccato per tre volte nelle ultime tre giornate, sembra poter tenere e sembra addirittura configurare una candela di indecisione molto forte. Questa candela non dimostra però l'inversione ma più che altro dimostra una probabile prosecuzione del trend a ribasso, quindi prima di cantare vittoria e di vedere magari fuori dalla crisi Ethereum io attenderei, confermo, il superamento intanto di zona 2000 dollari. In primis poi ovviamente andiamo via via a scalare, sempre più a rialzo. Per quello che invece riguarda un'ottica un po' più di ampio periodo, quindi grafico settimanale, zoomiamocelo un pochino, c'è un'area che per me è molto importante, questa zona qui del 1890-1900 che sta tenendo. A dispetto di Bitcoin, ecco questa zona qui è un po' più forte perché già la sta testando da diverse settimane e sembra non poter andarci sotto. Aspettate che qui cambia un attimo il colore o meglio ampio un po' la candela, eccola qua. Ok, perfetta, eccola qui. Ecco questa è una barriera che io reputo molto importante e questa sarebbe la successiva per quello che riguarda Ethereum. Quindi a dispetto di Bitcoin c'è un po' più di positività su questo grafico, anche perché le rotture non sono avvenute con grossa forza, addirittura volumi in scaduta. Il discorso che poi possiamo fare sul fattore volumi è sempre relativo al fatto che quando si va a rialzo l'importanza di un volume alto è molto più elevata a dispetto di un ribasso che invece poi vede i volumi svilupparsi in corso d'opera. Quindi ecco io do più fiducia al volume a rialzo per scegliere di operare o meno piuttosto che a ribasso perché quando il trend è ribasista comunque è giusto cavalcare in questo caso il movimento direzionato verso i minimi relativi alla fase storica. Insomma Ethereum che non ha grosse difficoltà a mantenersi sull'area di 2009-2000 dollari, vediamo come volverà e come chiuderà la settimana. Qualora andasse sotto il 1800 allora inizierei a preoccuparmi, al momento siamo ancora abbastanza equilibrati. Questo è tutto, vai a vederti le analisi su Bitcoin, su ADA e su Stella che sono sul canale e se sei curioso e curiosa c'è la live di ieri che è veramente molto interessante, molto dettagliata, vattela vedere dove parlo di Bitcoin in fase orso, faccio anche vedere un po' i rapporti con il passato e quello che è successo su base storica e gli storni importanti avvenuti. Insomma non ti resta che scoprire tutte queste belle novità sul canale e mi raccomando iscriviti se ci scopri solo oggi e lascia sul pollicione perché non costa niente e comunque dà una bella valorizzazione ai nostri video. Ciao e buona serata!